Se devi sostenere un esame e il libro che cerchi si trova in Biblioteca Frinzi, ora lo puoi consultare facilmente e in autonomia grazie alla nuova postazione dedicata in Emeroteca. Per accedere devi prenotare un posto all'interno della Biblioteca Frinzi utilizzando l'app Affluence e selezionando testi d'esame Emeroteca. La prenotazione ha una durata massima di un'ora, il tempo necessario per prendere il libro e se ne hai bisogno fare fotocopie delle parti che ti interessano. Ti ricordiamo che è possibile fotocopiare fino ad un massimo del 15% del libro. Se hai bisogno di una consultazione prolungata puoi prenotare un posto a sedere in Emeroteca sempre tramite l'app Affluence. Non è possibile accedere ai testi d'esame senza una prenotazione sull'app. Al momento, visti i protocolli Covid-19, il libro deve rimanere all'interno dell'Emeroteca. Ciò garantisce una maggior sicurezza e la possibilità da parte di più utenti di poter accedere alla risorsa in tempi brevi. I test in programma d'esame sono disposti sugli scaffali all'ingresso dell'Emeroteca. Su Leganto, il nuovo servizio per la gestione delle bibliografie d'esame e su Universe, puoi trovare la collocazione, cioè il codice che ti permetterà di individuare il libro di tuo interesse sullo scaffale. Controlla sempre anche la disponibilità dei libri prima di recarti in biblioteca. Se vedi scritto in prestito, significa che il libro non è disponibile. Non è possibile in questo caso utilizzare il form prenota al ritiro dei libri in biblioteca. La collocazione, che inizia con BFPE, è riportata sugli scaffali e sull'etichetta posta in alto sul dorso dei volumi. Una volta individuato il libro, puoi prenderlo dallo scaffale e utilizzare la postazione dedicata per registrare in autonomia la tua consultazione. Come prima cosa dovrai identificarti. Utilizza una tessera con il codice fiscale in formato codice a barre, ad esempio il tuo tesserino universitario o la tua tessera sanitaria. Posiziona là sotto il lettore ottico e attendi la conferma di avvenuta identificazione. Ora tocca al libro. Apri la copertina e individua il codice a barre. Orienta il codice verso il lettore ottico in modo che possa essere letto e attendi la conferma dell'avvenuta registrazione. Adesso puoi tenere il libro per un'ora ed eventualmente fare delle fotocopie utilizzando le fotocopiatrice presenti in emeroteca. Se invece hai prenotato un posto a sedere in emeroteca, potrai tenere il libro fino alla fine della prenotazione. Una volta terminata la consultazione del testo, dovrai riconsegnarlo. Per fare ciò, utilizza nuovamente la postazione dedicata. Seleziona il tasto Restituzione, scansiona il codice a barre del libro e attendi la conferma dell'avvenuta restituzione. Se lo ritieni opportuno, puoi richiedere la stampa della ricevuta. Una volta conclusa la consultazione, deposita il libro su uno dei carrelli rossi disponibili nelle vicinanze. A riporlo sullo scaffale al posto giusto, ci pensiamo noi!